In questo video è stata utilizzata la piattaforma H9 Sandbox, che è una piattaforma del tutto identica a Google Ad, creata appositamente per gli sviluppatori, infatti si possono sviluppare applicazioni che girano interamente in locale senza bisogno di connessi a server esterni e senza bisogno di dover registrare il dominio in cui si sviluppa il proprio sistema personalizzato. Inoltre, le richieste verso Sandbox non hanno bisogno di essere firmate con una firma digitale. L'architettura di base del progetto è costituita appunto da una base di dati che sostanzialmente è un soppinsieme del database completo utilizzato dall'armadietto reale, dal quale sono state fatte solo quelle tabelle che i campi sono sicuramente necessari per la gestione delle informazioni relative ai farmaci prescritti. Con in più, altre tabelle aggiunte, ad esempio per gestire gli account del portale web o l'associazione dei pazienti al medico, gli SMS e i dati sui farmaci. Grazie.